Nuovo video di Minecraft, Fere, ma dobbiamo fare subito una scelta Dietro di te devi scegliere se vuoi diventare Hulk o se vuoi diventare Iron Man E io so che qua litigheremo, Fere Eh, lo so, però dai, io faccio Hulk Decido che oggi voglio... Così gentile sei Voglio prenderti a pugni, proprio Pugni, così, dritto, senza superpoteri strani Vi spiego, dovete sapere che preferiamo entrambi Iron Man E ho detto, ah cavolo, mi ha lasciato gentilissima Invece perché mi vuole prendere a pugni con Hulk Ora mi è tutto chiaro Comunque, sali nel tuo carrellino, premi il bottone E si dovrebbe sortire Ma dovevo partire? Ma c'era una cassa lì, dovevamo prenderlo, no? No, no, non ci serve Tranquilli? Allora, spieghiamo un attimino cosa stiamo facendo Siamo su Super Hero Take Un, ma siamo su Minecraft Quindi dobbiamo costruire la nostra fabbrica di supereroi Ognuno avrà la propria Per poi combattere tra di noi Io sinceramente non vedo l'ora Sento un tizio parlare Quanto siete fastidiosi Io non vi ascolto, mi rifiuto Ma sono arrivata alla mia base Anche io sono appena arrivata, Steph Ecco qua, primo dropper, gratuito ovviamente, gratuito Eccoci qui Allora, inizio anche io Non c'è bisogno di spiegartelo Farei come su Roblox Devi premere i bottoni Ma è facilissimo da capire Parte la produzione E guarda la produzione con te, bella Bellissima Sono delle monete Delle monete gigante O dei medaglioni No, sono delle monete d'oro, secondo me Sì, monete d'oro giganti Stiamo facendo dollari Piano piano stiamo guadagnando Esatto Per la prima ci serve 100 E io andrò a fare l'Iron Man Essence Quindi immagino che anche tu hai la versione di Hulk Hulk Essence Quindi l'essenza di Hulk Perfetto Questa è la nostra base Qui come potete vedere Posso comprare le armi per 250 Per parlare a fare Comunque Esattamente come Roblox I muri costano tantissimo 1000 dollari Solo per delle mura, Steph Come sempre Sono le cose più costose Ho preso anche l'Iron Man Essence Fatto Ho preso anch'io Sembra una sorta di blocco di redstone rettangolare Bellino Anche il mio è un blocco verde Viola rettangolare sempre Vengo a vedere un po' da te Ma questo costa 2500 Fere, Fere, Fere C'è qualcosa che va Arriva qualcuno Ma chi è? Ma chi è? Mi attaccano E l'ho visto È un cattivo, Steph Sembra un po' Thanos Ma è Thanos No, è Thanos È vero? Certo, sembra un po' Thanos Senza il suo guanto Eh non lo so, Steph Non lo vedevo bene No, Fere, ti mettono anche Anger Non hai capito nulla Allora, me ne vado Mi faccio gli affari miei No, no, io mi compro il weapon shop Anche perché stanno arrivando pure nella mia base Quindi non è che devo pensare ad aiutare te Devo proteggere anche la mia Ok, allora Weapon shop Weapon shop Pistola Allora, ho una buona notizia C'è uno piccolino che mi pesta Dov'è la pistola? Eccola Devi prendere il weapon shop, esatto Fatto, fatto, fatto La buona notizia È che fare le kill ti fa fare soldi Bellissimo, Allora Bellissimo Allora non ci annoiamo ad aspettare solo i soldi della produzione Esattamente, hai capito subito Allora arriviamo a 2300 No, 2500 Quello piccolino, no? Non sa più parlare, Steph È perché mi è arrivato il Thanos baby Anche io avevo quello baby, è fastidiosissimo Sto facendo le gettoni potenti Vediamo quanti soldi vale Sono a 527 Vale 201 Divento ricchissimo Allora, il prossimo 25.000 No, vabbè Tra vent'anni I colpi secondo te sono infiniti Mi sembra di sì Mi sembra di sì, Fer Ogni tanto ricarichi Se hai notato Ok Penso di non avermi recaricato al momento Anche se mi sembra strano Perché una pistola dovrebbe avere una ricarica breve E questo che cos'è? Ci sono dei rubinetti qua Però non sembra che posso utilizzare L'ho visto anch'io ma non ho capito che cos'è Boh, evidentemente si sbloccherà dopo Quando ci saranno le mura magari servirà Però Fer Sto facendo tutte le kill Non è giusto Eh lo so Io sto andando in giro a killare tutti Perché ho detto che mi metto che si fanno soldi Ho deciso di farli così Anziché stare ad aspettare Aspettare Senza far nulla da agnogliarmi Steffo Cioè mi puoi uccidere? Io non ero preparata a questo Vale più soldi uccidere il player Davvero? Sì l'ho letto prima E non me lo dici No perché sono i fatti Cos'è ti posso colpire? Ecco fatto Uno per uno Steff Siamo pari e possiamo convivere Non ne sono così sicuro Mettila di spararmi dalla tua base Steff Facciamo i Thanos e conviviamo Ma perché i Thanos vengono tutti da bere? Guarda che faccio Così non mi pigli più Arrangiati Furba No baby Thanos non ci provare Comunque sono parecchio fastidiosi Ne arrivano tanti eh Non è che sono così tanti Non è per niente banale Anche perché l'upgrade dell'arma Costa 20.000 mi pare E ho visto Non è così semplice 25.000 Avenger 25.000 Io al momento non posso comprare niente Ah il soffitto La porta Bah però non le compro queste cose Continuiamo Ho sbloccato il secondo piano È bello? Uh Sì però Non mi hai detto nulla Eri zitto non capivo Costano l'ira di Dio Cioè 50.000 al dropper Ma chi c'è? È normale Steph Però stiamo facendo sull'imolto Velocemente Eh sì Quindi non ti puoi lamentare Su Su quello sono abbastanza d'accordo Allora quindi 25.000 a questo E 20.000 a questo Ho bisogno di far fuori fare No Steph Bene Mi servono soldi Guarda come è stata a spararmi subito Ma perché è più mirata Ok Non è più mirata Da lontano è un po' smirata Io infatti mi avvicino tantissimo A Itano Ho scopito Beh come giusto che sia Eh certo E d'altronde è solo una pistolina No al baby Non ci provare Ok Allora Sono solo a 7.000 Devo arrivare a 20.000 Glielo rubo E poi la sparo Si sta arrabbiando Si sta arrabbiando Cavolo se mi sta arrabbiando Lasciami in pace Steph Io adesso però faccio i 20.000 Mi compro la cosa delle armi Per migliorarle Basta Mi spendo tutti così i miei soldi Ma ti sto bucando i vetri Come mi stai bucando i vetri Vai via allora Vai via Guarda la tua base È tutta bucata Dai non mi bucare i vetri Ma perché Scusa È perché sono smirato Non è colpa mia No secondo me è un bug Aspetta No no anche tu hai bucato i miei muri Ma non dovremmo poter bucare le cose Non ha senso Dai non per la base Brutta guarda Spacco la faccia a qualcuno Non voglio i vetri rotti Non mi sparare Hai iniziato tu Hai iniziato tu Hai iniziato tu Ma perché mi colpisce di più Ho un cuore È perché ho capito come mirare Un pochino perlomeno Allora Vado Vado No 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 Cosa mi dai? Cosa prendi? Oh Cos'è? No però aspetta No star Stai fermo un attimo Dalla finestra Perché starò un maniaco Sta roba è un pacco incredibile Io te lo dico Perché? Spiegami Allora io ho premuto l'upgrader Mi aspettavo mi desse un'arma migliore No? Certo Invece ho il pugno di Hulk Da 25.000 da comprare No Capito? Sblocchi la possibilità di acquistare Io mi compro Il 25.000 Per la nuova produzione Sì assolutamente Mi sembra La guarda te lo dico io Contando che poi devi comprare un'altra arma O hai tantissimi soldi O non compri nulla Perché non vi posso sparare Scusatemi 250 No 25.000 Oh questo è potente Mentre questo è 50.000 Ma raga con questo Secondo me L'economia di Steph Aumenta radicalmente Già comunque Quello che ho preso nuovo Sembra molto potente Che cosa? E praticamente Dopo che compri Il dropper successivo Da 25.000 Sblocchi con altri 25.000 La possibilità di rendere Il tuo conveyor più veloce Ok Quindi esatto Più efficace Già Io sono poverissima No Ferre c'è un tanno Se sopra un pollo Orribile Già Ho fatto fare anche un pollo Allora Scale Sto comprando qualcosa Perché sono belle le scale Però di ultimi Ferre ma ti devi comprare Il dropper successivo Altrimenti domani sei ancora qua Non mi interessa Ferre ma guarda Dopo che ho buttato 20.000 Ormai ne butto altri Non mi interessa più nulla Ma rimani povera per sempre Non li farò mai 25.000 Cioè guarda quanto ci vuole Eh ma guarda Sono a 6.000 adesso È impossibile Guardami i soldi E lo roppero E lo regalameli Ho appena speso 25.000 Ascolta sai che faccio Faccio un sacco di Thanos Mi concentro E faccio un sacco di Thanos L'unica soluzione Infatti sono già 11.000 Continuiamo così Accidenti Accidenti Mi ha fregato Scusa tu non pensavi Che ti potenziasse la pistola No sì certo Non era chiaro Come era spiegato Pensavo che avrei sbloccato L'arma successiva Eh certo Facciamo pace Ok Mi sono Mi ha sparato Però quello è mio Ho bisogno di soldi Sono povera Vedi quelli che vuoi Tanto io sono ricco Allora Con 50 Eh però 50.000 Non ce li ho Eh no 50.000 sono troppi Anche per Steph al momento Facciamo fuori questi Che bella questa mappa Comunque Non so perché Ma quando gioco Una modalità di un gioco In un altro gioco Mi piace di più È un po' come quando fai Tipo Use your daddy Su Minecraft No? Queste cose qui Anche a me piacciono sempre di più Non so perché Eh boh Forse perché non sei abituata Farei occhio che c'è il baby dietro Ah ok Eh sì Perché secondo me è qualcosa di nuovo Cioè è la modalità che conosci sempre Che comunque ti piace Però in un altro contesto Quindi divertente Ho quasi fatto i 25.000 Io ho 50 adesso Gigi Allora vediamo un pochettino Vediamo un pochettino Allora ci sono dei Thanos lì Dai che mi mancano gli ultimi 2.000 Forza Adesso con 50.000 Ho reso i dropper due volte più veloci Guarda Io appena ho speso 50.000 Guardami i soldi Eh sì 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 Vado a potenziare comunque Finalmente li ho raggiunti Mamma mia Spero che mi dia una bella botta di soldi in più In modo tale da poterli fare un po' più veloce Allora Ok prossima cosa 50.000 Adesso potenzio di nuovo il convegno raga Divento ricchissimo Ricchissimo Come sempre io faccio i supereroi E poi penso ai soldi Sono una persona veramente terribile E brutta Beh però Iron Man pensa ai soldi Cioè vive nella super villa Ma si può mirare con la pistola Cosa? Con la pistola si può mirare Non l'avevi ancora capito? Secondo te come facevo a essere più mirata di te? Sparavo senza mirare io No io miro Però ti manco lo stesso No devi capire dove va bene il colpo Allora più o meno ho capito sì Eh perché si muove molto però quando spari Fere Fere Vedi? Così impari a mirare Vai e sai dove va il colpo Non c'era bisogno Fere Non c'era bisogno Mi servo lo soldi Però sto facendo molti più soldi E guarda sono già 30.000 E ho appena comprato l'upgrader Sì sì Che belle queste porte Come si aprono? Col tasto destro Stef Come tutte le porte di Minecraft E mi hanno togliato la pistola Sì 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 La cosa un po' fastidiosa è quella Volevo che l'automatica Io infatti contendo che ci siamo solo noi due Ci stiamo già sparando E anzi ci spariamo dai viettri Stef Non mi sono neanche girata a risponderti No hai fatto bene Infatti mi hai regalato Dicevo che tengo la porta aperta Perché tanto non ha molto senso 45.000 Mi mancano solo 5.000 Dai 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 E quelli contano tantissimo Ti faranno la differenza Vedrai Allora prendo questo da lontanissima Noi comunque io sparò solo senza mirare Non so perché pensavo fosse l'unico modo Per sparare con quest'arma Invece non era così Allora compro questo Ma ne avevo un altro anche da 25.000 Eh sì Avevo lo speed upgrade da 25.000 E da 50.000 Però ho comprato direttamente quello da 50 Perché quello da 25.000 Velocizza il conveyor L'altro velocizza i dropper Deve prendere entrambi Ah ok vabbè Allora prossima cosa anche quello Tanto adesso dovrei fare soldi velocissime Infatti guardate sono già a 20.000 In 0 secondi Incredibile Rispetto a prima che me li stavo sudando i 20.000 È lentissimo qua sopra Ho preso la produzione di sopra io Bella? È lenta È normale l'inizio? Eh sì è lenta proprio tanto E poi la seconda cosa costa 150.000 Eh lo so E io 150.000 Non ce li ho Né oggi Né domani E neanche dopo domani Come il fatto che Ferre né oggi Né domani Né dopo domani Sarà più ricco di Steph Perché Steph Sa gestirsi meglio l'economia E non provare a spara No 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 Cioè devo provarlo Cosa fa? Ti faccio male? Sì Però Fa schifo È un po' L'ho pagato 25.000 Porca Cioè guarda No dai ha qualche abilità Che io non sto capendo Prova a fare il tasto destro F G Salta T Non lo so Nulla Sto premendo tutti i tasti della stanziera Se me lo stai domandando Mi sa che non funziona Cioè è più lento della pista No dai mi sembra È una truffa Ma ci sono altre armi per comprare Ferre? Sì c'è l'upgrader da 100.000 Non so cosa c'è dopo Perché non l'ho minimamente comprato Però sì Quindi ci sono altre armi 500.000 al prossimo Mamma mia Costano troppo Uffa Ero convinta di schiacciare Steph Tipo con un pugno che crea un terremoto Cioè mi aspettavo una roba del genere E anche io avevo paura infatti È ovvio Invece non c'era motivo di averla È andata tutta molto bene Chissà aspetta Magari mi dà qualche informazione No Sei attack damage Vabbè Vabbè È andata così ragazzi Mi hanno truffato due volte Oggi è stata truffata due volte Poverina Non solo do fiducia E compro anche il pugno di Hulk Ma vengo pure truffata Allora Allora 50.000 Upper dropper Forza Ma come arrivo a 500.000 Consolini Non ce la farò mai Sono a 200.000 ancora Non ce la farò mai Sono povero io Eh lo sai che ti chiude Steph Ci vuole un sacco di tempo Io ormai posso uscire Anche dalle finestre rotte Molto divertente Ma non è che magari Almeno mi danno Mi da più soldi Ma no Perché poi mi devo avvicinare Per forza i Thanos No ci metto Prendo più colpi Perché mi mettono la fame Non è conveniente Non ha senso Il rubinetto a che serve Non è proprio conveniente Ho premuto il rubinetto Sì anche io Non serve a nulla Comunque Consolini Io direi che ci possiamo Fermare così Nel prossimo video Completeremo completamente Completeremo completamente Completeremo tutto Il take one Secondo me è più corretto Da dire in questo modo Io decisamente Lo finiremo Vedremo tutte le armi Che potremo trovare Vedremo qua tutto Si sblocca Qua tutto si costruisce E soprattutto Vedremo chi sarà più forte Tra i due supereroi Comunque Qui è stato come altri video Iscriviti al canale Campolino E ci vediamo Nel prossimo video Ciao ciao